Buonasera ragazzi, ecco la video lezione sulla seconda guerra mondiale, ovviamente soltanto per i punti essenziali, dovete poi leggere sul libro per avere maggiori dettagli. Questa lezione sarà soltanto sulla seconda guerra mondiale da un punto di vista generale, nel senso che la parte sull'occupazione nazista dell'Italia e la resistenza, che pure cronologicamente sono all'interno della seconda guerra mondiale, saranno trattati in una lezione apposita. Allora, innanzitutto, come sapete, la guerra inizia con Hitler che invade la Polonia, ok? E' stata la blitzkrieg che Hitler voleva, cioè una guerra lampo, una guerra lampo che è riuscita grazie a due mezzi, i bombardamenti aerei e i mezzi corazzati. La Germania aveva iniziato a produrre carri armati. Prima si faceva un bombardamento aereo che faceva la piazza pulita di qualsiasi cosa ci fosse e poi i carri armati avanzavano. Gli aerei polacchi non sono mai riusciti neanche a decollare perché quei pochi che avevano li hanno distrutti mentre erano ancora a terra. C'è stata un'invasione contemporanea dei russi, nel senso che i tedeschi, come vedete, sono avanzati da questa direzione, ma i russi sono avanzati dalla direzione opposta. E ci furono quattro gruppi che si chiamavano Einsatzgruppen, che erano delle squadre di assassini che avevano il compito di decapitare, cioè di uccidere tutta la classe dirigente polacca. E questi gruppi poi, quando ci sarà l'avanzata contro la Russia, faranno esattamente la stessa cosa con i russi. Perché la metà della Polonia, che in questo momento finirà sotto i russi, poi diventerà oggetto di invasione da parte dei tedeschi, non appena dichiareranno guerra alla Russia. E quindi poi questi Einsatzgruppen dovranno eliminare i sovietici. Ma si occupavano anche di rastrellare e uccidere gli ebrei, questo perché questa zona qui che vedete è una zona con tantissimi ghetti. Questa è una zona di insediamento tipico degli ebrei dell'est Europa. Gli ebrei dell'est Europa erano presenti massicciamente, milioni, non erano mescolati molto con il resto della popolazione, tante che parlavano una loro lingua, una specie di dialetto tedesco arcaico misto con l'ebraico che si chiama Yiddish, che hanno una letteratura meravigliosa. Questi ebrei di lingua Yiddish. Allora, tuttavia tutta questa brutalità, queste barparie, questi massacri indiscriminati, di cui ricordiamo soprattutto il massacro di Babi Yar, che avvenne nell'attuale Ucraina, crearono problemi psicologici ai soldati, nel senso che in questo massacro ad esempio vennero uccisi 33.000 ebrei nell'arco di due giorni, quindi fucilazioni proprio una dietro l'altra, poi buttati nelle fosse comuni, cioè chiunque sarebbe impazzito, che è chi potrebbe andare a letto dopo aver ucciso 33.000 persone in due giorni, scusate. Allora Hitler e Himmler concepisce il piano di rendere più distanziata la carneficina, e infatti la soluzione finale sarà tutta una serie di meccanismi che spersonalizzeranno lo sterminio, nel senso che l'uccisione degli ebrei viene divisa in tantissime fasi e quindi non c'è un solo responsabile del campo di concentramento di Auschwitz, ce ne sono tanti e quindi il peso dello sterminio è dilazionato nel tempo e anche suddiviso tra varie persone e soprattutto più distanziato. Allora, dopo aver conquistato la Polonia, i francesi affrontano quella che viene chiamata la Drôle de Guerre, cioè la guerra strana, nel senso che per un po', nonostante la Francia avesse dichiarato guerra alla Germania insieme all'Inghilterra, per un po' Hitler non ha attaccato i francesi, ha preferito occuparsi di altro. Sostanzialmente ha invaso la Danimarca e la Norvegia, la Danimarca è qui, la Norvegia è qui, ha lasciato perdere la Svezia per questo momento e in seguito vedremo che l'impero di Hitler si estenderà anche alla Finlandia. Ma perché? Perché inizialmente la Finlandia era stata annessa dall'URSS, no? Perché sapete il patto di spartizione con la Polonia? Ecco, quando l'armata rossa è andata avanti, l'armata rossa si è presa alle Repubbliche Baltiche, che sono queste qui, Estonia, Lettonia, Lituania, cioè quelle che noi oggi chiamiamo Repubbliche Baltiche, e si sono presi anche la Finlandia. Poi, quando il patto di non-aggressione, il patto Molotov-Ribbentrop è caduto, Hitler ha avanzato, no? E allora, tutte queste Repubbliche Baltiche, Estonia, Lettonia, Lituania, e poi anche la Finlandia, che non è una Repubblica Baltica, si sono alleate con i nazisti, però contro i sovietici che li avevano occupati. Solo che cosa è successo? E' successo che la Finlandia ha chiesto una pace separata con l'Unione Sovietica nel 1944, motivo per cui, quando è finita la guerra, siccome aveva già chiesto una pace separata, era già fuori da un anno, non è stata inghiottita nell'Unione Sovietica. E questo è il motivo per cui la Finlandia è un paese, insomma, in tutto e per tutto occidentale, europeo. Va bene. La Francia. Com'è caduta la Francia? Beh, con la stessa maniera in cui è caduta nella Prima Guerra Mondiale, nel senso che i tedeschi sono passati da qui sopra, come avevano fatto con il piano Schliffen. Vedete che i francesi avevano fortificato il loro fronte, avevano fatto questa immensa trincea, scusate, devo tornare indietro, avevano fatto questa immensa trincea che si chiama Linea Maginot, io l'ho visitata, è una trincea sottoterra, perfettamente equipaggiata per esistere dei mesi, e invece è stata bellamente evitata passando per il Belgio. Le truppe francesi e inglesi furono circondate in questo paese che si chiama Dunkirk, io vi ho riportato la grafia francese, 400.000 uomini rimasti completamente isolati. La battaglia fu un disastro dunque, però ci fu un'immensa patriottica operazione di recupero, nel senso che gli inglesi presero le loro barche, attraversarono la manica e trasbordarono i francesi e gli inglesi rimasti lì in Inghilterra. Questa è l'unica cosa epica che è successa in questo periodo. C'è stato anche un film su questo fatto di recente. Questa zona non è stata fortificata perché la ritenevano impraticabile per i carri armati, perché la foresta delle Ardenne è un terreno abbastanza impervio, però i carri armati tedeschi pesavano talmente tanto che in realtà riuscivano a passare. Allora, nel giugno del 40, quindi la guerra come sappiamo è scoppiata nel settembre del 39, nel giugno del 40, Hitler era già a Parigi, ok? E questo lo rese praticamente il generale più famoso di tutta la storia tedesca. Divise la Francia in due. Non so se ho una cartina dopo. Ecco, divise la Francia in due, qui sopra una zona occupata direttamente da Hitler, cioè nel senso che era proprio una zona sotto occupazione militare tedesca, sotto invece scelgono di fare uno stato fantoccio, uno stato collaborazionista che era gestito da questo tizio di estrema destra, il generale Pétain, e questo stato si chiama Repubblica di Vichy, ok? Era un, diciamo, un generale di estrema destra, quindi con un culto dell'autorità, il militarismo, insomma, sembrava un prussiano praticamente, e una forma di cattolicesimo identitario, quindi persecuzione degli ebrei in nome della religione. Allora, la resistenza francese invece fu guidata da Charles de Gaulle, che sarà il futuro presidente della Repubblica Francese, che era in esilio a Londra, e lui da Radio Londra parlava, e sapete Radio Londra, no? Era il notiziario praticamente che dava la speranza a tutta Europa, l'unica radio libera che i francesi riuscivano a prendere. Che cosa succede? Succede che i generali tedeschi, che, sapete, non apprezzavano Hitler, perché i generali tedeschi, sapete, sono la vecchia aristocrazia, vengono dagli Junker, Hitler non gli piaceva molto, aveva questo ambiguo rapporto, aveva avuto questo ambiguo rapporto con l'SA di Röhm, ecco, adesso invece anche i generali tedeschi di vecchio stampo, e vecchia Prussia, diciamo, si convincono che Hitler è invincibile. Hitler voleva chiedere la pace a Churchill, alla Gran Bretagna, perché la verità è che gli inglesi gli stavano simpatici, perché in fondo gli inglesi sono ariani, nella sua mente erano ariani, e quindi li voleva come alleati contro la Russia, sembra incredibile, ma gli schieramenti che per noi oggi sono ovvi non lo erano affatto, cioè Hitler voleva allearsi con l'Inghilterra contro il comune nemico bolscevico. Allora, cosa fa l'Italia? Ebbè, l'Italia, come sapete, non era entrata in guerra subito, quando Hitler aveva invaso la Polonia, perché aveva mandato quella lista di richieste folli a Hitler, se avete visto il video col professor Barbero che vi ho spedito, dovreste saperlo, insomma, ha mandato una lista di richieste a Hitler di rifornimenti che era impossibile da soddisfare, e in questa maniera ha fatto capire a Hitler che non poteva entrare in guerra. E quindi Mussolini si è dichiarato non belligerante, non belligerante non vuol dire che era neutrale, vuol dire che in questo momento non combatteva, però teneva la parte alla Germania. Non appena però Parigi capitolò, Mussolini disse, ma io voglio una fetta di torta, voglio una fetta di torta anch'io, quindi attaccò la Francia, una cosa che è una vera pugnalata alle spalle, incredibile, nel senso che il giorno dopo il nostro attacco la Francia chiese la pace all'armistizio alla Germania, quindi la Francia era già capitolata sostanzialmente, nonostante questa pugnalata alle spalle, e le perdite furono forti, cioè gli italiani pestero 5.000 uomini, forse era nelle intenzioni di Mussolini, infatti guardate cosa disse, disse che voleva solo qualche migliaio di morti da gettare sul tavolo della pace. Allora, questo è il discorso famosissimo di Churchill, questo discorso di solito viene chiamato noi combatteremo sulle spiagge, è il discorso che fece dopo il disastro a Dunkirk per dire che insomma loro non avrebbero mai fatto la pace con Hitler perché Hitler andava fermato. È un discorso epico, vi ho messo qui il testo in inglese e anche un link su YouTube dove potete sentirvi, è una versione cinematografica dal film L'ora più buia. Questo discorso dice andremo avanti fino alla fine, combatteremo in Francia, combatteremo sui mari e sugli oceani, combatteremo con fiducia crescente e con forza crescente nei cieli, difenderemo la nostra isola a qualunque costo, combatteremo sulle spiagge, combatteremo nei luoghi di sbarco, combatteremo nei campi e nelle strade, combatteremo sulle colline, non ci allontaneremo mai. Notate questo magnifico futuro con Shell. Allora, qui inizia la cosiddetta battaglia d'Inghilterra, cioè Hitler vuole sbarazzarsi dell'Inghilterra, a questo punto, visto che Churchill non vuole la pace, si chiama Operazione Leone Marino, vuole invadere l'Inghilterra. Per invadere l'Inghilterra, ovviamente, la sua flotta non doveva essere massacrata dall'aviazione britannica. L'aviazione britannica è questa qui, la Royal Air Force, voi sapete che in inglese britannico le R che stanno in fondo e in mezzo non si leggono, quindi, mentre in inglese americano questa sarebbe R, in inglese britannico semplicemente E, E, così, e questo in inglese americano è Force, ma in inglese americano è Force, in inglese britannico è Force, quindi Royal Air Force, ma potete dirlo all'americana, non muore nessuno, la Royal Air Force, detta la RAF, ok? Allora, la Royal Air Force riuscì in realtà a fare, diciamo, a combattere i piani di Hitler, perché Hitler voleva mandare i suoi aerei a distruggere la RAF, però, grazie al radar, in realtà si sapeva benissimo quando stavano per arrivare i bombardieri tedeschi, quindi anche la RAF decollava e riusciva efficacemente a contrastare la Luftwaffe. Diciamo che quindi l'operazione Leone Marino fu rimandata perché Hitler capì che non ci stava ricavando un ragno dal buco. Allora, la guerra parallela italiana, Mussolini voleva dimostrare che lui non era semplicemente al rimorchio di Hitler, ma anche lui era, aveva, insomma, una sua autonomia, voleva dimostrare che non era il burattinaio di Hitler, cioè che non era il burattino di Hitler, scusate, e infatti lui è venuto prima di Hitler, quindi, quindi aspirava a essere lui il burattinaio, vabbè, e quindi decise di fare una guerra per conto suo, ok? Allora, voleva conquistare i Balcani, cioè voleva conquistare la zona, la zona jugoslava, e arrivare fino in Grecia. Del resto, disse che quelle erano terre che anticamente, sulle coste, sulle coste, erano state di Venezia, e poi voleva anche riprendersi i territori francesi, che una volta appartenevano al regno di Sardegna, Corsica, Nizza, Savoia, in effetti tutti questi territori sono appartenuti al regno di Sardegna, cioè all'Italia, in tempi passati, ok? e tuttavia noi eravamo completamente impreparati, la nostra flotta fu affondata, praticamente metà, in una sola notte nei pressi di Taranto, vedete, notte di Taranto, 1940, e poi ci fu un altro attacco che uccise tantissimi nostri marinai all'estremo sud della Grecia, nel famoso capo Matapan, ok? Quindi, la nostra flotta, praticamente, viene già resa incapace di essere offensiva. Le nostre colonie in Africa si trovarono sole, nel senso che non avevano più possibilità di essere rifornite, perché sapete dove sono l'Etiopia, la Somalia, l'Eritrea, avete presente sulla mappa, figurarsi se era possibile far pervenire loro delle munizioni, e quindi caddero in mano inglese, e gli inglesi ridiedero l'Etiopia al Negus, vi ricordo che il Negus è l'imperatore etiope, lanciamo anche dalla Libia, che era la nostra colonia dal 1911, lanciamo anche un attacco contro l'Egitto, perché volevamo arrivare a Suez, volevamo togliere Suez agli inglesi, però fallimmo questo attacco contro l'Egitto, e Hitler ci dovete inviare gli Africa Corps di Rommel per aiutarci. Questa è una cosa di importanza capitale, perché probabilmente abbiamo fatto perdere la guerra a Hitler, togliendogli delle truppe che avrebbe potuto impiegare altrove. Cioè, se non avesse mandato Rommel ad aiutarci con gli Africa Corps, magari avrebbe potuto iniziare prima la campagna di Russia, e quindi forse sarebbe riuscito a combinare qualcosa. Allora, la campagna di Grecia. Allora, innanzitutto bisogna sapere che avevamo già occupato l'Albania, e dall'Albania siamo andati in Grecia. L'Albania l'avevamo presa nel 1939. Famosa la frase di Hitler, così per un po' di cultura generale, spezzeremo le reni alla Grecia, ok? In realtà, sulle montagne della Grecia siamo stati battuti, il nostro esercito si è comportato malissimo, ma malissimo non nel senso solo militare, ma che nel senso umano, massacri, ingiustificati contro i civili. Quindi, la Grecia andò malissimo, Badoglio, che è ancora qui, sì, è ancora qui, Badoglio si dimise, però lo ritroveremo, Badoglio, perché è quello che firmò l'armistizio, ovviamente, e anche qui i tedeschi ci vennero in aiuto. È interessante il fatto che non ci lasciarono annettere la Grecia all'Italia, la Grecia fu divisa in due, metà, compresa Atene, fu sotto la giurisdizione italiana, ma è più che altro un'amministrazione militare occupante, quindi non è che fosse, cioè non è che ad esempio ci pagassero delle tasse, cioè non fanno parte dell'Italia, sono occupati militarmente. Però è interessante due cose, innanzitutto che fino a quando c'è stato Mussolini, cioè fino al 43, perché Mussolini è caduto nel 43, due anni prima della fine della guerra, gli italiani, il governo italiano, si è rifiutato di consegnare degli ebrei, non perché fossero, i fascisti fossero improvvisamente diventati filosemiti, ma perché non li volevano dare i nazisti, cioè volevano dimostrare a Hitler che loro erano indipendenti, e quindi non volevano collaborare solo per il gusto di dire noi non prendiamo ordini da voi sostanzialmente. Anche qui c'è da dire che la campagna di Grecia, esattamente come la campagna contro l'Egitto, probabilmente hanno ritardato l'operazione Barbarossa, l'operazione Barbarossa è quella contro la Russia, se Hitler fosse partito prima contro la Russia, probabilmente non si sarebbe trovato nel bel mezzo dell'inverno ad attaccare Mosca, e voi sapete quanto è rischioso attaccare la Russia d'inverno. Napoleone Dochet. Allora, l'attacco... scusate, indietro... Allora, Stalin era sconvolto che Hitler si fosse deciso ad attaccarlo, perché Stalin pensava che prima Hitler avrebbe liquidato l'Inghilterra, poi magari sarebbe andato contro di lui. Però in realtà Hitler voleva distruggere i sovietici sin dall'inizio, la cosiddetta teoria dell'Ebens-Raum, voleva conquistare tutto questo spazio a est. Quindi fece una manovra, divisa il suo esercito in tre, la prima parte andò qui, vedete, verso Leningrado, Leningrado subirà un assedio devastante, durato anni, ma non cadrà. Il assedio di Leningrado è uno degli episodi più famosi della guerra. Un'altra parte andò verso Mosca, e poi un'altra parte andò in Ucraina, verso Kiev. In Ucraina, perché sapete, l'Ucraina è il granaio d'Europa, e poi qui tra l'altro c'è il Caucaso, e quindi una zona ricca di minerali. Andiamo avanti. Allora. Hitler chiese il nostro appoggio, anche perché all'inizio voleva andare da solo, poi però, quando ha iniziato ad avere problemi, quando ha iniziato ad avere problemi nelle vicinanze di Mosca, ha chiesto a Mussolini di intensificare la presenza italiana. Allora, l'esercito italiano si chiamerà Armire, Armire, sono diventati famosissimi, probabilmente anche voi alle elementari o alle medie avete letto qualche racconto dell'Armire, cioè, insomma, questi ragazzi sono stati mandati nell'inverno russo con delle divise di cotone, con delle scarpe che avevano le suole di cartone, con dei fucili che a meno 40 gradi sotto zero non funzionavano. Insomma, Hitler comunque riuscì a prendere l'Ucraina, qui vedete Kiev, che è in Ucraina, però nonostante questo non riuscì ad abbattere l'Unione Sovietica perché, scusate, perché nel frattempo, nel frattempo l'Unione Sovietica aveva creato altre zone per coltivare e per fare industrie belliche, quindi non servì a niente. Poi arrivarono anche nei soborghi di Mosca, qui, ma si fermarono, ci fu un contrattacco e arrivarono, vedete, a cerchiare Leningrado, ma Leningrado continuerà a resistere per tutta la guerra e non cadrà mai. Quindi quella che doveva essere una guerra lampo diventa una guerra di logoramento e qui Hitler da qui non è più andato molto avanti. Allora, qui abbiamo una specie di resume, un riassunto, qui abbiamo i confini del Reich tedesco nel 37, ok? No, scusate, questi sono i confini nel 42, non nel 37, infatti c'è dentro la Polonia, quindi ovviamente c'è già stata l'invasione. No, è questa qui, la Germania 37, la Germania, la Germania con questo violetto, ok? Vedete, c'è il corridoio di Danzica, ancora. Qui invece questi confini sono nel 42, quindi metà Polonia è stata annessa. Poi c'è tutta questa parte che è stata conquistata e che quindi è sotto occupazione militare, esattamente come il nord della Francia è sotto occupazione militare. Allora, la quale è la posizione degli Stati Uniti? Allora, gli Stati Uniti diciamo che vengono da decenni di cosiddetto isolazionismo, cioè non volevano avere nulla a che fare con le vicende militari europee, però diciamo che il presidente Roosevelt convince il congresso del fatto che bisognava assolutamente sostenere in Inghilterra, quindi approvò una legge per dare dei prestiti agli Stati Uniti, cioè per dare dei prestiti alla Gran Bretagna. Con questi prestiti la Gran Bretagna comprava materiale bellico dagli americani, quindi notate la strategia. Prestano i soldi e poi con questi soldi se li fanno ridare indietro per comprare delle armi. Quindi poi la Gran Bretagna aveva queste armi ma poi doveva ridare i soldi di nuovo nonostante avesse già pagate le armi, doveva ridarli di nuovo agli Stati Uniti. Quindi gli Stati Uniti guadagnavano due volte. Importante è la famosa Carta Atlantica che è un po' pronunciata, cioè no, non pronunciata, siglata diciamo, da Roosevelt e Churchill che è un po' una riedizione dei 14 punti di Wilson dove si impegnano che alla fine della guerra i vari popoli avrebbero dovuto avere un'autodeterminazione e le merci avrebbero dovuto circolare liberamente. Questo qui del circolare liberamente è ovviamente l'ideologia liberista. Allora, il Giappone, il Giappone, perché voi sapete che tra le potenze dell'asse c'è anche il Giappone, lo sanno tutti, Italia, Germania, Giappone. Il Giappone all'inizio si è ben guardato dal dichiarare guerra alla Russia, nel senso che voleva condursi una guerra tutta sua, no? Senza addestare il canche dorme che sarebbe l'Unione Sovietica. Aveva occupato quindi la Manciuria, questa qui, sottraendola alla Cina e poi si era espansa, qui vedete queste linee, sono successive ondate di espansione dell'impero giapponese a spese dei francesi, soprattutto presero, la cosa che indignò di più, l'Indocina francese. Questa è stata la causa remota dell'ingresso degli Stati Uniti nella guerra. Perché? Cosa c'entra il fatto che il Giappone prenda l'Indocina francese? Col fatto che gli Stati Uniti entrano in guerra. Perché? Per fermare l'espansionismo giapponese gli Stati Uniti posero un embargo. Vi faccio già vedere questa cartina dove sono le isole Midway e dove Pearl Harbor perché poi ci serviranno Pearl Harbor e isole Midway. Guardate bene. Allora, quindi gli Stati Uniti reagiscono all'occupazione dell'Indocina come vi dicevo mettendo un embargo. L'embargo vuol dire che non puoi commerciare con quel paese. Questo fu disastroso per il Giappone perché il Giappone prendeva il petrolio dagli Stati Uniti quindi provvisamente si sono trovati senza carburante. Allora, cosa fecero? Dichiararono guerra agli Stati Uniti e fecero un attacco proditorio nel senso un attacco traditore perché non hanno dichiarato guerra non hanno dichiarato guerra non hanno lanciato un ultimatum così dal nulla il 7 dicembre 1941 hanno attaccato la base militare di Pearl Harbor nell'Hawaii. Fortunatamente metà delle porte aerei statunitensi non erano nella base e quindi il loro tentativo di annientare la flotta statunitense andò in fumo per fortuna però questo attacco così vigliacco così prodittorio fece imbestialire gli Stati Uniti che dunque dichiarano guerra. I giapponesi che erano residenti negli Stati Uniti questa è una cosa che sono in pochi vengono rinchiusi in campi di concentramento perché anche se erano cittadini americani bastava che avessero dei nonni o dei genitori giapponesi e se anche erano nati in America cioè erano americani vengono rinchiusi perché sono dei potenziali traditori questa è una pagina assolutamente dimenticata della storia che però sarebbe meglio non dimenticare allora ci fu un attacco alle isole Midway che vedete qui in realtà più che un è stata una battaglia diciamo da lontano nel senso che sono le porte aerei che si sono avvicinate hanno lanciato gli aerei dalla pista di lancio che vedete qui e poi c'è stato lo scontro tra aerei ecco gli aerei degli Stati Uniti sono riusciti ad affondare le quattro porta aerei giapponesi e queste erano le uniche che avevano poveretti cioè nel senso si erano indebitati avevano dilapidato tutte le risorse che avevano per fare queste quattro povere porta aerei di cui erano fierissimi e gliele hanno distrutte tutte poveri avanti ecco se io vi dicessi all'esame quando è che c'è stato il punto di svolta cioè quando è che Hitler ha perso la seconda guerra mondiale la risposta è la battaglia di Stalingrado vedete 42 inizio 43 allora innanzitutto Hitler dopo il parziale fallimento dell'operazione Barbarossa riprende riprende l'attacco verso 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 la Russia ma fa un errore formidabile nel senso che vedete questa linea qui sotto ecco era un attacco verso i giacimenti petroliferi del caucaso qui vedete qui Hitler divise le sue armate perché voleva che metà esercito andasse ad attaccare Stalingrado e l'altra metà vedete l'altra freccia che va verso il basso dove c'è scritto Marcaucaso qui c'è la catena montuosa del caucaso questa divisione delle truppe fece sì che non conquistò nessuno dei due obiettivi fu l'errore militare più pesante della sua vita Stalingrado resistette e la gente fece una resistenza casa per casa i tedeschi la chiamavano la Rattenkrieg la guerra dei topi cioè dovevano stanare ogni russo in ogni singola casa ok cioè dovevano combattere per conquistare ogni dieci metri il risultato fu che non presero la città anzi vennero circondati e come sappiamo che questo è la fine di Hitler perché da questo momento in poi c'è un arretramento dei tedeschi cioè finora la Germania è sempre stata in espansione finora i tedeschi sono andati avanti hanno conquistato adesso invece in tutti i quadranti in tutti gli scenari tornano indietro vedete ve l'ho scritto le potenze dell'Asfer retrocedono in tutti i settori nel Pacifico nel settore russo e in quello nord africano allora qui parliamo delle battaglie che ci furono a El Alamein allora innanzitutto qui abbiamo in rosso vi ho detto gli africacorps di rommel che vedete puntano contro l'Egitto ed erano quasi arrivati ad Alessandria quindi erano avanzati parecchio vennero poi ricacciati indietro dagli inglesi loro e anche gli italiani ovviamente proprio qui a El Alamein la famosa battaglia di El Alamein perché avevano ricevuto consistenti aiuti americani e vedete questo è diciamo la ritirata fino alla Tunisia di Rommel ma perché è importante perché vedete queste zone tipo Tripoli prima erano italiane adesso invece diventano degli alleati diventano angloamericane e sarà da queste basi che ci sarà poi lo sbarco degli americani in Sicilia ok perché sapete che gli americani non sono solo sbarcati in Normandia nel nord della Francia ma per liberare l'Italia sono sbarcati in Sicilia e da dove sono partiti sono partiti da qui ovviamente dal nord Africa ecco testa di ponte per il futuro sbarco in Sicilia qui era per farvi vedere la dispersione delle forze italiane nel senso che mentre eravamo impegnati a El Alamein ok vedete qui c'è l'offensiva inglese che sta ricacciando indietro Rommel e qui Rommel viene attaccato anche da 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 ovest ok mentre c'era tutta questa faccenda c'era anche la battaglia di Stalingrado in corso ok quindi quindi Mussolini ha dovuto dividere le truppe in due più ovviamente tenere delle truppe qui in Grecia per l'occupazione insomma un impiego delle truppe molto poco oculato allora qui vorrei farvi un confronto questo è prima di Stalingrado vedete Stalingrado è qui la Germania ha la massima espansione o meglio più che la Germania l'asse vedete Hitler la chiamava la fortezza questa la fortezza Europa insomma si era si era praticamente fatto un un fortino imprendibile qui invece vedete l'esercito tedesco nel 45 quando quando è finita la guerra cioè guardate a cosa era ridotto l'esercito tedesco questi sono gli unici punti in cui c'erano delle sacche di esercito di esercito tedesco bene allora dopo anzi dopo e durante a dire il vero allora le conferenze di Teheran e Casablanca allora cosa si decide innanzitutto nella prima Stalin non c'era perché era diciamo impegnato ancora a Stalingrado ma comunque si decide in queste conferenze che non si accetterà una resa della Germania a meno che non sia incondizionata ok cioè la Germania doveva capitolare senza condizioni si decide anche una cosa scellerata o almeno con i criteri di oggi sembra scellerata e cioè bisognava far sì che Hitler non avesse più l'appoggio della popolazione quindi bisognava bombardare le città bisognava arradere solo le città tedesche e fare di proposito morti tra i civili perché i civili dovevano smettere di appoggiare Hitler e poi si decise una cosa che non piacque molto a Churchill cioè lo sbarco in Francia ok si decise che nel 44 queste conferenze sono del 43 ma nel 44 ci sarebbe stato un nuovo fronte in Francia perché non andava bene a Churchill è perché lui prevedeva quello che poi è effettivamente successo e cioè che che se le truppe americane e inglesi fossero sbarcate in Francia tutta la parte invece a est dell'Europa sarebbe rimasta in mano all'armata rossa cioè a Stalin quindi lui avrebbe preferito che la liberazione dell'Europa partisse dai Balcani cioè che si passasse per la Jugoslavia in questo modo risalendo magari si sarebbe potuto tenere all'Occidente cioè ai paesi non comunisti un po' di Europa quindi vedete Churchill era molto come dire cioè queste persone queste tre persone che sembrano così amicone in realtà difidavano l'una dell'altra o meglio Churchill e Roosevelt difidavano tantissimo di Stalin temevano che poi finita la guerra Stalin non avrebbe rispettato l'indipendenza di tutti i paesi in cui sarebbe passata l'armata rossa e in effetti è stato così nel senso che Stalin è andato avanti è arrivato a Berlino e tutto quello che c'era prima di Berlino è diventato una zona di influenza sovietica perso per l'occidente fino più o meno alla caduta del muro di Berlino qui vediamo la zona dello sbarco in Normandia vi ho messo questa cartina soltanto per farvi vedere dove è la Normandia qui vedete la composizione dei vari contingenti ecco il D-Day lo sbarco in Normandia il 6 giugno 1944 arrivano a Parigi ad agosto Hitler aveva ordinato folle di rabbia di dinamitare di di mettere della dinamite in tutti gli edifici storici di Parigi per raderla al suolo per fortuna il comandante dell'esercito tedesco a Parigi si è rifiutato di farlo e quindi abbiamo ancora l'arco di trionfo da vedere diciamo Charles de Gaulle che vi ricordate era il presidente diventerà il presidente della Repubblica vi ricordate era il capo della resistenza che stava in esilio a Londra oggi c'è l'aeroporto Charles de Gaulle a Parigi per ricordarlo allora le ultime fasi della guerra l'Urs abbiamo detto attacca da da Est Hitler ormai si rende conto che il suo esercito perde da tutte le parti però sperava che l'avrebbe salvato la tecnologia e quindi sperimenta questi razzi razzi V1 e V2 che non sono aerei sono razzi quindi non c'è bisogno di sprecare vite umane o aerei sperava che questi razzi a distanza lanciati su Londra sarebbero riusciti a cambiare le sorti della guerra e in effetti hanno provocato circa 9000 morti questi razzi però nello stesso periodo su Berlino e sulle altre città tedesche sono cadute talmente tante bombe che questi razzi hanno delle testate esplosive che erano lo 0,2% in materia esplosiva di tutte le altre testate esplosive che invece sono state buttate sulla Germania nello stesso periodo questi razzi venivano fabbricati utilizzando gli ebrei deportati nel campo di Dachau venivano trasportati in questa fabbrica sotterranea ecco qui uno dei fatti più incredibili più più atroci della guerra sempre per la strategia dobbiamo far sì che i tedeschi non sostengano più Hitler il bombardamento di Dresda guardate in che date siamo 13 15 febbraio 45 la guerra è quasi finita Dresda era praticamente la Venezia del nord Europa una città splendida magnifica guardate il grado di distruzione praticamente non è rimasto niente ma ha ucciso tutti perché l'aria cioè i venti che si sono creati l'aria è arrivata a avere una temperatura di migliaia di gradi cioè quindi non era possibile che nessun essere vivente sopravvivesse in questa carneficina questo ovviamente è un rendering con una ricostruzione di Dresda Dresda poi è stata ricostruita hanno cercato di farla il più simile possibile a com'era e però Churchill e gli americani che hanno comandato questo bombardamento non sono stati fatti sedere sul banco degli imputati per crimini di guerra a Norimberga soltanto Hitler che si era suicidato lui nel bunker soltanto i nazisti sono stati processati per crimini di guerra e non quelli che hanno ordinato il bombardamento di Dresda la vita è strana a volte scusate qui vediamo la ritirata progressiva ok qui vediamo dove erano arrivati tedeschi nel 42 prima della battaglia di Stalingrado e poi man mano la ritirata con l'avanzata dei russi in viola l'avanzata dei russi vedete sostanzialmente arrivano vicino a Berlino e tutta questa zona poi diventerà una zona di influenza sovietica allora Hitler esattamente con la prima guerra mondiale cioè sembra una fotocopia fanno un ultimo tentativo di invadere la Francia sulle Ardenne ma anche in questo caso non hanno più carburante i carri armati vengono respinti grazie alla contraerea eh sì alla contraerea scusate all'aviazione che avevano messo a disposizione gli americani ma soprattutto questi carri armati non avevano neanche il carburante per andare avanti qui c'è la famosa la famosa storia di Hitler chiuso nel suo bunker a Berlino Hitler pare fosse impazzito c'è un film molto bello su questa che vi consiglio di vedere Hitler è vero quel film è molto accurato Hitler muoveva sulla mappa degli eserciti che non esistevano neanche più che ormai aveva completamente sraggionato alla fine ha deciso di suicidarsi lui e la sua amante Eva Braun però diceva che i tedeschi erano stati indegni nel senso che non avevano saputo supportarlo nel suo grandioso sogno per far rinascere la Germania anzi tutti i tedeschi buoni tutti i tedeschi eroi erano già morti quindi diceva che la Germania non si meritava di esistere e ha dato quest'ordine chiamato ordine Nerone Nerone perché sapete Nerone è accusato di aver incendiato Roma lui invece voleva distruggere tutta la Germania una specie di Ragnarok Ragnarok è la fine del mondo nella mitologia germanica scandinava quindi aveva ordinato che venisse distrutta qualsiasi fabbrica e qualsiasi impianto di comunicazione ferroviaria tedesco non è stato non è stato esaudito non è stato esaudito per fortuna resta resta soltanto uno in gioco Mussolini vi ho detto è già caduto nel 43 qui siamo nel 45 però ci occuperemo della caduta di Mussolini in un'altra lezione resistevano ancora i giapponesi i giapponesi sapete hanno questa mentalità un po' un po' samurai della serie resistiamo fino alla morte per l'onore e non volevano concedere la resa incondizionata perché volevano delle garanzie prima fra tutte che gli avrebbero lasciato tenere l'imperatore perché la casa reale era considerata divina ok una delle prime cose che esigeranno invece gli alleati quando sconfiggeranno il giappone è che l'imperatore dichiarasse solennemente alla radio che lui non era una divinità allora i giapponesi resistono resistono al punto che isola per isola danno battaglia agli americani qui vedete una foto famosissima la conquista dell'isola di Iwo Jima vedete questa foto è meravigliosa perché è il simbolo della fraternità della forza della forza dell'unione dei marinsi insieme che hissano questa bandiera c'è un film anche su questa foto perché quelli che hanno i protagonisti di questa foto vennero tolti dalla guerra questa foto piacque tantissimo in America divenne un simbolo un simbolo americano tra i più famosi e quindi presero le persone che erano in questa fotografia e li portarono a fare un bel giro in tutti gli Stati Uniti e a fare pubblicità cosa capirono gli americani capirono che non potevano permettersi di stare a giocare alla guerra con i giapponesi perché opponevano una resistenza folle cioè avrebbero sicuramente vinto gli americani però per ogni isola avrebbero avuto migliaia di morti e avevano addirittura calcolato che per invadere il Giappone ci sarebbero voluti milioni di soldati perché anche qui probabilmente ci sarebbe stata una resistenza a oltranza e quindi gli americani presero la risoluzione che già sappiamo cioè il progetto Manhattan allora il progetto Manhattan vedete fu diretto da Oppenheimer e si basa anche sulle scoperte di Einstein sulla conversione materia e energia in realtà era un progetto che stavano perseguendo anche gli americani cioè gli americani scusate era un progetto che stavano perseguendo anche i tedeschi ma vedete la stupidità dell'antisemitismo cacciarono dalla Germania un sacco di scienziati di fisici Einstein compreso tra l'altro che non poteva ovviamente più dimorare in paesi occupati dal terzo Reich e grazie a tutti questi scienziati ebrei fu possibile battere Hitler sul tempo e costruire prima la bomba atomica la prima bomba atomica fu sperimentata nel nuovo Mexico quindi in un deserto degli stati uniti allora qui abbiamo il bombardamento di Hiroshima allora vengono sganciate come è noto due bombe atomiche il 6 e il 9 agosto vedete è noto è noto il grado di distruzione pressoché totale qui c'è un dibattito un dibattito folle nel senso che il tizio che ha sganciato la bomba atomica cioè il pilota dell'aereo si è fatto frate cioè per perché restava impazzendo per quello che aveva fatto quelli che difendono lo sgancio della bomba atomica dicono che in realtà hanno risparmiato probabilmente milioni di morti nel senso che se la guerra fosse andata avanti chissà magari avrebbe fatto un altro milione di morti per per farla finita con il Giappone e quindi sono state uccise queste centinaia di migliaia di persone sono state vaporizzate però forse hanno risparmiato un altro milione di vite la guerra è stata come dire accorciata qui bisognerebbe interrogare un po' Kant no? l'essere umano sempre come fine e mai come mezzo si può uccidere 200.000 persone per risparmiarne un altro milione? probabilmente no e tra l'altro il Giappone era talmente alle corde che si sarebbe reso comunque e soprattutto non si capisce proprio il perché della seconda bomba atomica già dopo la prima il messaggio penso fosse arrivato chiaro e forte ma anche in questo caso gli americani non sono finiti alla sbarra del tribunale internazionale di Nuremberg l'unione sovietica tra l'altro ha dichiarato guerra in questo momento al Giappone solo in questo momento ok e subito dopo viene firmato l'armistizio e con questo abbiamo finito la seconda guerra mondiale vedete i dati ha avuto 50 milioni di morti vedete ve l'ho scritto qui mentre la prima guerra mondiale ne ha avuti circa 10 questo probabilmente perché bisogna contare anche un maggior numero di morti tra i civili a causa dei bombardamenti indiscriminati sulle città tedesche ecco un altro ah sì ho dimenticato di dirvelo un altro motivo per cui forse hanno gettato la bomba atomica è che volevano dimostrare all'unione sovietica quanto erano superiori a lei bene la seconda guerra mondiale è finita ce l'abbiamo fatta stare in 55 minuti quindi vi saluto grazie a tutti Grazie.